possiamo definire gli scacchi la palestra della mente nati in india intorno al sesto secolo dopo cristo gli scacchi giunsero in europa verso l'anno mille buongiorno a voi che seguite questa puntata sullo sport ma non vi dovete meravigliare se gli scacchi sono un fenomeno sociale perché lo sono sempre stato dopo essere giunti in italia e in spagna verso il decimo secolo con loro graduale di fondersi nelle corti europee hanno influenzato le arti e costumi sociali cari studenti e studentesse dell'università campus biomedico indipendentemente dalle emozioni che proverete nel giocare a scacchi sono sicuro che vi accorgerete della fondatezza di un motto che afferma che ci sono più avventure su una scacchiera e su tutti i mari del mondo vorrei darvi uno spunto di riflessione sui valori ai quali lo sport si ispira e su come sia possibile farne esperienza nella vita universitaria università come universitas che per il campus è un luogo di persone di relazioni e di valori condivisi come il rispetto la solidarietà l'integrazione e la collaborazione valori che sono propri anche dello sport il rispetto per se stessi per i compagni di squadra e per gli avversari in studio con noi il giornalista della rai marco franzelli buongiorno buongiorno a tutti da remoto la scacchista italiana che detiene il titolo di maestro internazionale femminile la più giovane ad aver vinto il campionato italiano femminile di scacchi tea gueci a tutti il trainer professionista premiato dalla federazione scacchistica italiana come miglior istruttore per l'anno 2012 e per l'anno 2017 marco corvi ciao buongiorno a tutti e lo studente facente parte del gruppo responsabili dello sport cbm simone pagliarici buongiorno a tutti quali sono le caratteristiche di questo sport a livello soprattutto valoriale visto che stai parlando ecco di tanto sacrificio dietro al successo no e quindi ecco parliamo di questo aspetto qua guarda sicuramente eh a differenza diciamo di della maggior parte degli altri sport la particolarità degli scacchi è che a scacchi puoi giocare tutta la vita gli scacchi sicuramente trasmettono una marea di valori il primo fra tutti secondo me il rispetto il rispetto nei confronti dell'avversario poi gli scacchi sono il gioco etico per eccellenza cioè comunque nascono come gioco cavalleresco eh secondo me è una cosa veramente bellissima quindi penso che questo gioco sia alla portata di tutti eh sicuramente ci deve essere passione tanto studio e dedizione e qual è la tua idea per il mondo universitario quindi l'avvicinamento del mondo universitario agli scacchi cosa sta portando anche agli studenti che stai coinvolgendo nel tuo torneo c'è stato un piacevolissimo riscontro di tanti studenti entusiasti e che non vedevano l'ora di iniziare il nostro torneo l'ora di iniziare il mondo universitario agli studenti